Con il piatto pasta al tonno Licio di Biase, decano della politica abruzzese, vince l'edizione 2021 di Politici ai Fornelli. Allora descriviamo e raccontiamo l'emozione della prima volta. Sicuramente per aver fatto per tanti anni l'amministratore e essermi dedicato per tantissimi decenni alla politica, vincere un premio di questo genere per me è un fatto forte, innovativo, per cui forse il consiglio è di fare altro, quindi di dedicarmi a questa cosa. Benissimo, sono felicissimo perché è la seconda volta che concorrevo a questa competizione, l'ho stesso piatto, l'ho perfezionato, ci ho lavorato molto e ancora da migliorare, però mi fa molto piacere che la giuria, una giuria di competenze, veramente ti devo dare atto, una giuria eccezionale, ha scelto questo mio piatto come piatto vincitore. Ma com'è fatto questo piatto, pasta al tonno? Diciamo che è un piatto di mia moglie su cui ho lavorato molto, perché il piatto pasta al tonno è banale, perché ci sono dentro le alici, le olive nere, il pacchino, e poi alla fine una spruzzata di capperi, capperi sotto sale, da pulire bene, è un piatto ricco, molto ricco, che porta i sapori del nostro territorio, anche se magari non ci sono elementi ricadenti al nostro territorio, però sono i sapori del nostro territorio, quindi mi fa piacere che la giuria abbia scelto questo piatto come piatto vincitore. Questo primo posto a chi lo dedica, Alicio Di Biase? Necessariamente a mia moglie, che mi ha insegnato a fare questo piatto.